Ciao a tutti che ciotti e benvenuti in questo episodio di... Ciao Fappers... Non lo so... Ah, Fappdb, sai, ecco come si chiamava. Già ti scordi, ok, perfetto. Vabbè, i primi episodi non siamo ancora abituali, ragazzi. Eh, io sto prendendo le slab di stone, perché sicuramente ci serviranno e... Non so chi ci avrà voglia di prendere dopo. Ma no, ma perché rovinai il villaggio? Tiè, prendile tu, anzi, perché io ho l'inventario finito. No, 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 rimettile a posto, cattivo. Ma quanto fa, Fappi. Vabbè. E ne manca anche una, dov'è? Eh, sta per terra, ecco, sta qui. Posso suicidarmi? Aspetta, qui ci sono le sabbie mobili. Prima metto un waypoint, cos'era, con la N e con la C, ok, con la C. Ci scrivo villaggio wasteland. Ok. Oh, la smetti. Guarda, io mi butto, eh. Pronto a soccorrermi? No. Sì. Io sto qua a prendere le patate. No, no, vieni a soccorrermi. Non so dove, cioè. Eh, guarda in alto. Guarda verso il cielo. Sicuro che dovrei? Sì. Non è che trovo fappate, no? No, no, guarda verso il cielo. Io vado, eh. Cosa stai facendo di bello? Vieni qua, non sto scherzando, ci potrei morire. Qual è che ci metto anni a tornare poi? E ho tanto cibo nell'inventario. Ho tanto cibo nell'inventario. C'è il... Ah, perché, scusa, che succede? Perdi la roba? Eh, no, solo che per i prenderli devi andare in fondo. Come fai a prenderli in fondo alle sabbie mobili? Perché dovresti farlo allora, scusa? Che figata! Tipo così? No. Voglio morire. Sì, è il god. Meglio assicurarla a questa zona, che non vorrei mai caderci dentro. Eh, se no prendiamola, potrebbero, potrebbero, potremmo usarla a casa nostra. Eh, io ne ho 18 di qui, dentro a casa nostra, ma sei scemo? Ah, ho trovato l'astronosa dam che mancava. E dove è il nostro letto? E dove costruiamo più che altro? No, no, dove è il nostro letto più che altro? Ah, ok, hai trovato. Vieni. Vabbè, qua chiudiamo, va. Dove sei? Dove stai? Au, dove stai? Au. Dai, andiamo a dormire qua. E che sì, il romano, au. No. Eh. Ok. E questo è il nostro EP, ragazzi. Basta scriverlo e entrate. Fa più. No, io ho fa più. Io fa più. Vabbè. Si è uscito dalla porta senza aprirla. Come hai fatto? Eh, sono pro. Ma anche tu la vedi che è aperta? Cioè, che è chiusa. No, io la vedo che è aperta, veramente. Vabbè, comunque. Ah, ecco la tua. Comunque, iniziamo tipo a progettare casa, più o meno. Allora, io casa la voglio. Guarda quanta quicksand che ci sta. Oh, cacchio. Eh, andamola. No, aspetta. Voglio buttarmici dentro. Sto per morire. No, che figata. Mi ci butta fuori. Grande, grande quicksand. Sei un mito. Oh, cacchio. Oddio. Oh, cacchio. Oddio, ma sei scemo. Oh, cacchio. Oh, cacchio. Dai. Ah, no, vabbè, è finita. Ok, allora, la facciamo qui in questa pianura? Sì. Che poi è bruttissima questa erba. Vabbè, ma poi possiamo modificarlo. Nella serie, prendiamo l'erba e la piantiamo noi, a mano. Wow. Contento? Ti piace, vero? Quando abbiamo una pianura vicina, direttamente con l'erba, mi sembra molto... Che pianura? Ci abbiamo tutta una pianura verde. Ma questa è una foresta, non è una pianura. Pesce che sta roba schifosa. No, no, io l'ho incontrata prima, aspetta, eh. Ok, vediamo. Perché mi stai ammazzando? Non ti sto nemmeno toccando. Che cazzo è? Poison. Eh, si vede che sei... Che hai mangiato la quicksand. Oppure hai mangiato una patata avvelenata, genio. Eh, sai che sto per morire. No, non puoi morire con il veleno. Ok, c'ho due cuori. Un cuore in mezzo. Non puoi morire col veleno. Vabbè. E invece, e invece... Ok. Dov'è la pianura? Ora che io non la vedo. Cioè, non è che fa poco così tanto. Eccola. Cioè, di là. Ah, ok. Ok, dobbiamo andare per di qua, però. Cazzo, so caduto dentro! Oddio, ok, sono fuori. Dove sei? No, sto qui. Ah, ok. Vabbè, andiamo assieme, che se no ci perdiamo poi. Dove sei? Ah, c'è un... Pollo. È un maiale! No, no, per me è un pollo questo. Eh, non posso... C'ho l'inventario pieno, guarda. Costruiamo al più presto, che devo assolutamente svuotare. Orco demonio! Aspetta, fermo, non posso per di qua. Oddio, ma sono delle trappole naturali. Guarda, pure di qua! Io mi ci butterei. Eh... Guarda qui! Ma per chi è... Ascalinata. Cioè, oddio. Eh, perfetto, guarda. Poi il bello è che io cammino con la minimappa ingrandita con X, no? E quindi non vedi un Kaiser. Ah, no, si vede nella minimappa. Io mad. Ah, è vero. So più. Oh, guarda che bella! Sì, mi piace. Eh, lì dove sta... Vedo delle birce! Che belline! Eh, la faccia tua. Cosa? Hai visto che se vai sott'acqua a questa erba verde vedi viola? Che figata! Vieni sotto, facciamo tunz tunz. No, tipo... Basta. Ok, ci siamo capiti. Prendi la clay, prendi la clay che ci servirà per fare le cose di Red Power. Ah, beh, ce l'abbiamo vicino casa, dettagli. Oh, ce l'abbiamo della quicksand in vicino casa. Che porchi. Cioè, vicino casa. Dovemmo ancora fare la casa, ma dettagli. Se facciamo una casa di quicksand... Provo così, no? Se si può stoccare. Voglio provarci. Oh, sì! Posso passaggi attraverso? Oddio, mi faccio male. Ok. Uh, guarda, figo, abbiamo pure gli alveari. Guarda, sto morendo. Oh, cacchio, cacchio. Sono un genio. Vuoi vedere se cale? C'è quel letto di là, non l'abbiamo ripresi. Vabbè, senti, intanto... Io ne ho altri due. Eh, intanto piazziamo, piazziamo... No, prima vediamo come fare casa. Intanto mi sa che faremo una cosa piccolina, no? E poi ingrandiamo. Sì, 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 sì. Eh, il problema maggiore è... Allora, dobbiamo spianare, no? Perché questo... No, no, qua va benissimo. Ah, ecco, perfetto. Guarda, cioè, è gigante. Premi la X. Ok, sì, ma riempiamo o togliamo? Perché vedi che qua è una parte un po' fapposa con gli scalini. Ah, io non lo so, direi di esplodare ancora. Ah, ci sono gli alberi qua. Guarda che gli alberi fanno allargare un botto con tutte quelle foglie. Non so più. No, no, sono in serio, sono tutti artefatti grafici. Allora. Artefatti come quelli di Magic. Oddio. C'è un altro coltempio. Vedo, vedo degli alberi della... Quelli da colorati. Vi vedi? Ah, epico. Aspetta. Vabbè, no, 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 fermo, fermo. Sì, sì. Dobbiamo stabilirci, quindi prendiamo delle le... Vabbè, ci mettiamo a fare delle cose. Ok? Ti piacciono le cose? Eh. Che porco. Allora. Sei un porco? Basta. Ah, tu pensa a dove possiamo fare casa. Aspetta, mi chiamano. Eh, in teoria qui. Andare a mangiare ma non mi importa. Eh, finiamo almeno il video tuo. Aspetta, vediamo a quanto stiamo. Eh, mancano 11 minuti. Eh, che cacchio. Vabbè, i dettagli. Eh, qui va bene, quindi. Dove sei? Eh, sì, sì. Eh, non so se riempire quello che manca o togliere. Allora, intanto io suggerisco. Ci mettiamo una mini casetta qui, fatta proprio di terra della serie Easy Peasy. E ci mettiamo i letti, giusto per dormire subito la notte. Così ci costruiamo casa e poi trasferiamo i letti. Sì, è una cesta, cioè, in teoria dovremmo mettere. Però, vabbè. I letti separati o matrimoniale? Matrimoniale, chiaro. Separati, ok. Eh, facciamoci anche subito una cesta. Facciamoci. Sto facendo anch'io. Vabbè, facciamo una doppia allora. Vabbè, ognuno dietro il suo letto. Ah, ti vuoi togliere, stupida pecora? No, ma non così, che schifo. Te la so, non pendo. Perché? Perché fa schifo così. Madonna, quanto fa, P. Via, levati. Ma tanto scusa, dobbiamo ritoglierla. Non mi interessa. Ma quanto so. E la workbench non va qui, decisamente no, ok? Ti, mettiamo la fornace, tipo qua. Ti devo fare lezioni di design proprio base. Ci lascio qualche strumentino base. Mi sa che hai preso a te, Fapp. Sì. Piazza la qui in mezzo. No, perché la fornace in mezzo al comodino? Decisamente no. No, non rompe. Allora, ok, dobbiamo iniziare a organizzare. Sì, sì, era una bella idea finché non si arriva a te. La mettiamo sul pavimento. Ecco, diretti così. Ho messo nella cesta tua, no. Ah, fate. Io poi giusto ciò che ho, che semplicemente non mi serve un Kaiser. Ok, nella mia cesta c'è cibo. Non a volontà, ma quasi. Qui sto cuocendo nove patate. Ok. Mi serve un'accetta. C'hai del ferro? Hai del copper? Si possono fare le cose di copper? Non sono aggiornato su queste cose. No, 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 guarda, c'è still. C'ho due blocchi di still. Ah, figo, ok. Li riconverti il lingotto e poi fa tutte le robe. E che still sia. Allora, io ho un Asha in still. Vabbè, inutile. Vabbè, allora, dammela. No, no, sure. Ok, me ne è fatto. No, no, asp... Vabbè, sì, come vuoi. Ma quanto dura? Quando ho detto, lascio funzionare anche da spada, quindi possiamo fare una cosa in due, insomma. Ma è lo stesso danno preciso. Sì. Show. Provo a cire la carne delle capre. Aspetta che attivo la durabilità. Ok, vediamo se... Invezziamo una pecora. Ehi, pecora? Hai fatto il lobby. Vedi due colpi? E a 500 di durabilità. Ero a fare una pecora, sono una spada in pietra. Eh? Sì, ma non è precisamente corretto, perché c'è comunque un margine di errore, è possibile. Da certe cose, dai... Ho trovato un dungeon della Towncraft, un altro. Vieni con me. Vieni, aspetta. Io mi salvo due ponti che non ci sa mai, vaffangata. Eh, vai, anch'io va. C. Base. Non scrivere casa, che casa suona brutto. Base. Dimmi di no. Oppure di sì. Piova. Viola? Viola chi è? Tua mamma? No, no, è uscito Viola... Ah, ah, no, no, è mai uscito Azzurrino. Forza, Napoli. Ehm. Vediamo. Ah, lì vedo gli alberi. I famosissi. Ah, no, questo è solamente un... Un coso. Guarda che figo. Un totem? Che ci si fa con quelli? Guarda, no, sono blocchi decorativi. Guarda la faccia, cacchio. Eh, sì, l'ho vista, vabbè. Blocchi decorativi che non si possono spaccare. Eh, ci vuole qualcosa di più potente di un piccone di pietra, se permetti, eh. Ma mi sembra anche corretto. Senti possidiana. Che belli quegli alberi, guarda. A momenti me li fa per lei tutti. Ehm. Poi... Ok, materiale per la casa? C'è un buco. Oddio, ma... Anzi, ho appena scoperto essere una caverna col buco. Epic. Ok, andiamo a costruire la casa, cioè... Ok, tipo materiale? Eh, dobbiamo spaccare tanto legno. Perché potremmo usare cobblestone e altro. Però per fare cobblestone ci serve il legno. Per fare il piccone, per andare in caverna, per prendere... Uh, va veloce sta ascia. Oia. Guarda, io di legno ce ne ho già tonnellate, eh. Tonnellate quante? Tonnellate nel senso... 32 più 56 più 53 più 20 pezzi. Ma log o... Già lavorati? No, no, il planks. Eh, allora vaffangata. Tanto vale prenderci le cose. Tanto spacca che è una meraviglia sta cosa. E quanti stick ti servono? Ma poi non deforestiamo proprio davanti a casa. Dai, qua è figo. Ah, beh, li ripiantiamo. Quale è il problema? Tanto sono birch, ce ne saranno migliaia. Oh, oh, oh. Più meno. Più meno, meno, molto meno. Aspetta un attimo, vorrei dire mia mamma che devo... Fa pare. Sì, eh, ah, aspetta. Ok, eccomi. Ok. Hai fappato abbastanza. Sì, ma mi sono diminicato le patate a casa. Oh, cosa vuoi? È così. Guarda, qua c'è una caverna. Quante? Epico. No, aspetta, forse non lo è. Aspetta, fai vedere giù. Come non lo è? Senti, io torno a casa che dovremmo dormire e ho anche finito il mangiare. Non posso neanche più correre. No, non è una caverna. Sono a 100. C'è un creeper. C'è un ferro dentro. Come si fa la fornace, quella che cuoce doppio? Ti fa usci o due lingotti... La slug fornace. Che? Si chiama slug fornace. Eh, dobbiamo usare quella per cuocere il ferro, il copper, queste robe. Oddio, due creeper. Non posso correre, sono morto. No, no, aspetta, aspetta. Eh, guarda che è piena. Piena la zona dove... Dove sei? Sto arrivando, 70 blocchi dalla base. Aspetta, eh. Io veramente sto... Un alberi della gomma. Ma che te frega? Creeper a manetta, no. Cioè, in realtà è uno, però... Sto per morire. Oh my god. Sto per morire. Ha distrutto un albero. Ma vieni qua e aiutami. Io sto per morire. Che senso? Oh, merda! Creeper. È esploso dietro, però non sono morto. Dietro dove? Vabbè. Comunque. Io sto per morire. Ok, sto qua. Hai una spada? Ammazza lo scheletro che mi sta colpendo. Io ammazzo lo zombie. E vado a prendere da mangiare. Eh, ma io ho cinque cuori e mezzo. Ok, ne ho quattro. Ammazza lo scheletro. Sto per morire. Ho due cuori. Ho due cuori. Non è andato a... Ah. C'ho quattro cuori e mezzo. Ahia. C'ho quattro cuori. No, surreal. Qua ci moriremo. No, no, no. Ci moriremo. Ahia. Ok, è morto. Oddio. No. No. No, non morì, surreal. Oddio. Dormi. Dormi veloce. Corri. Veloce. Prima che vattacchi qualcuno. Ecco. Abbiamo sbagliato letto. Scendi subito. Ma chi scende? Oddio. Fermo, fermo, fermo. Dormi, dormi. Sul serio è disceso. Oddio. Sì. Ok. Dov'è che si mangia? Qui. Sento dei passi. Dimmi che sei te. Oddio, oddio. Sto perdendo vita. Ah no. Siamo in normal per fortuna con il server. Sennò ero già morto di brutto. Dobbiamo piantare delle cose. Perché dobbiamo piantare le cose. C'è un po' d'acqua qui vicino, sì, lì. Bene, allora io mi metto a fare un po' di roba. Allora, io... Senti, scaviamo cobblestone a sto punto. No. Come no? No. Andiamo in caverna e ci troviamo le cose. Ok. Mi serve... Della cobblestone. Un pochino di cobblestone, ok. Allora, facciamo ticket e tacco. Che te, tu che te, ti che te patte, che? Guarda, qua c'è una patata. Prendila. Non mi interessa. Prendila da te. Eh, la pianti. Eh, ne ho già quattro, tranquillo. Madonna. Ma mi hanno detto che sono un fopper. Ti rendi conto? Cosa c'è la slugfulness? No, no. Non penso così. Madafacca. Allora, dov'è della stone? Proprio in vista. Lì giù. Vabbè, ma non voglio rovinare. Aspetta, facciamo un po'. Una roba... Ecco. Allora. Le slugfulness ci cuocio dentro il ferro e il copper. Carote. Mh. E questi. Abbiamo delle ossa? Sì. Sì, dovremmo avercene. Ok. No, beh, mi sono disposto da solo, tranquillo. Voilà. Come vuoi c'è il carbone nelle slugfulness? Quanti blocchi? Eh... Non è una risposta ben definita. È comunque meno efficiente. Cioè... Ne consumi un botto. Vabbè, però ti dà o stone oppure due blocchi alla volta. Cioè, insomma, è conveniente. No. Comunque, eh... Allora, sì... L'hai davvero craftata la slugfulness? No. Così comincio a prendere qualche materiale. E sai che ci ha visto? No. Sì. Oh, sì, pecora. Guarda che ci ha visto quell'enderman. Eh, vabbè, ma non ci sta attaccando, che te frega. Siamo morti. Vabbè, comunque... Eh? Dico la casa come la facciamo. La casa? Io pensavo a qualcosa anche con un portico di figo, no? Eh, no, ma il materiale è base, perché almeno... Eh, io direi... Stonebrick. Eh, alla fine è quello, insomma. Oppure anche marble. Ma marble... Cioè, quel bianco così sembra tipo il marmo delle piastrelle dei cessi. Sembra tipo i cessi... E allora faremo il bagno in cui useremo il marble. Eh, quello sì. Perché ci sta troppo bene. Ho 14 pezzi di carbone, il che è molto figo. Eh, io c'ho tipo uno stack, vabbè, comunque. Uh, ferro. Mi piace il ferro. Eh, lo sto prendendo, lol. Ah, grande. Ti stimo quando fai le cose che mi piacciono. Eh, allora mi stimo. Ok, basta. Ok, ora ho tante torce. Mi piace quando ho tante torce. Lo sapete che dovremmo anche andare tipo... A scavare. E noi quando andiamo in caverna non va mai bene. Sì, lo so. Ci divertiamo sempre. Adesso sto scavando così, ma effettivamente potremmo scavare direttamente in una caverna. No, vabbè, no, no, no. Perché così si prendono pure i materiali. E se usassimo il cold coke? Tanto è comunque... Che produce... Eh, vabbè, dai. Eh, lo mettiamo nel posto del carbone, che se no... No, no, dura troppo. Mi sarebbe... sarebbe uno spreco. Almeno il carbone lo usiamo per le torce. Ah, come se fosse un utilizzo degno. Ho un florellino. Aspetta, no, questo mi sa che è alluminio. No, let me sì. Eh, non sberlucica più, quindi è difficile distinguorlo ora. Non è più come... Eh, beh, sì che è tin, dai. Eh, questo lo riconosce perfino un fap. Ah, beh, no. In effetti, tu no. No, perché è uguale allo steel. Cioè, uguale alla... Oddio, scusa. Eh, no, ragazzi. Non chiedeteci di disattivare... Non chiedeteci di disattivare il... Il PvP perché faremo un'arena in cui combatteremo, in effetti. È un'idea che mi è appena venuta ed è strafiga, quindi non chiederò nemmeno l'autorizzazione al brand, lo faremo appunto e basta. Ok? No, abbiamo detto che non chiedo l'autorizzazione, quindi... Ciao. Faremo un... Un altro copper, è epico. Cioè, sto a cercare... A trovare tutte io le cose, è giusto per... Anch'io ho trovato del copper, fappone. Due pezzi. Ho trovato... I amante. I smeraldi blu. I smeraldi, cioè. Buono, buono, buono. Così ci facciamo le spade. Uh, tre pezzi di copper. Quattro pezzi di copper. Oh, che cos'è? Oddio! Stupido timer. Oddio, mi ha fatto venire un colpo. Oddio. Oddio. Ragazzi, per questo episodio... È tutto. Oddio, sì. Per questo episodio è tutto. Grazie per la visione. Oddio, mai più. Devevo passare il volume a cron prima. Oddio. Aia. Ti giuro, mi son cagato addosso. Ok. Per questo episodio è tutto. Vi ricordo che carichiamo un episodio a testa. Quindi se volete seguire la serie, dovete iscrivervi per forza a canale di vento. Lo so, sembra una minaccia. In realtà, lo è. Lo è. Ok. Quindi, per questo... Fapp episodio di Fapp the Beast è tutto. Tutto. Io vi saluto. Grazie per la visione. Ciao a tutti. A più. Alla prossima.